Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è in Velažo e mi spero che ci sia molto più per me, ma io spero di ottenere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. Il nostro corso gratuito è molto più importante, quindi i raggiungere 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 i raggiungere. Il nostro corso gratuito è vero che i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. Il nostro corso gratuito è vero che i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. Il nostro corso gratuito è vero che i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. Il nostro corso gratuito è vero che i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. del nostro corso gratuito è vero che i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere i raggiungere. Quali potenziali di Veloža? Inoltre, Manđuka è vicino a qui, ma dovrebbe avere molta rada. Agović, Puce, ma dovremmo fare più qualitativi. Inoltre, quando la prima squadra è arrivata da prima squadra, dovrebbe essere più vicino ai nostri giocatori. È ancora un grande problema. e mi preoccupa di non perdere la motivazione. 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 Mi credo che abbiamo fatto un esforzo. Questo è quello che mi ricordo. Quando sono arrivato a Mostar, non c'erano. Ci sono solo un giro. Ci sono un giro. Ma che è successo. Ma penso che sono ovunque. Il nostro bambino è stato pronto. I mi credo che questo sia una esperienza. Come abbiamo fatto un esforzo e in Europa, mi credo che non solo la nostra Stardegu, ma in grandiose regioni. In Bosnia e Hercegovina molto sympathizzano, e ci sono più che di tutti i nostri bambini. e c'è un'esplice, ma c'è un'esplice, ma c'è un'esplice di più di qualità. Io non ho mai avuto un'esplice. Io conosco che faccio qualità e voglio fare alcuni risultati. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. Ora, tutti i nostri hanno la critica, ma penso che ho avuto un po' di questo periodo, un po' di questo periodo, un po' di più, un po' di più, un po' di più, un po' di più, per esempio, che ho dovuto fare alcuni risultati. Però, in ogni caso, ho dovuto fare alcuni risultati per me, perché è il mio club. E sono felice quando vedo me, il mio club è il mio club. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. C'è un'esplice. in questo tempo, il mio club, so che abbiamo innamorato ancora con ieri per esempio la rating e la qualità di gioco, e io credo che il mio primo progetto è Europa. E' la prima volta quando andiamo a la Premier League, per l'evoluzione per l'Europa. Certo, conosco queste persone, sono molto qualitativi. Abbiamo avuto uno dei miei amici. Quando siamo arrivati in Tešan, sono stato amici. Mi è davvero caro, mi sono stato molto felice. E' un club che mi ha piaciuto, e mi sono stato molto felice. E ora vedremo il primo progetto. Quando possiamo riuscire a fare l'inforazione. Abbiamo il riuscito. Ma siamo molto, perché ho avuto un'evoluzione a un'evoluzione, un'evoluzione a un'evoluzione, e ho avuto un'evoluzione per l'evoluzione. E' stata un'evoluzione per la scuola. e ho bisogno di fare ancora di più. Io ho dovuto essere molto più concentrato per la prima squadra. Ma abbiamo anche Trnovuca, un grande studente che riguarda la fisica e i noi ragazzi dovrebbero avere più tempo per il nostro tempo e lavorare in omogeneità e lavorare in un'imitiva. e lavoriamo ancora più qualitativi, perché il risultato è che il nostro scuole non si vede. Non si vede molto, ma anche solo uno o due qualitativi giocatori per la prima equipe. In ogni caso, mi sono detto che il progetto è sempre presente, ma sicuramente possiamo ancora fare questo, perché questi ragazzi sono i ragazzi, e questi ragazzi sono i ragazzi. Sì, sicuramente, più più pubblica, io credo che quando il pubblico arriva, che ci sono più motivati. Mi credo che è il momento per tutti, senza dubbire, non ho capito, non ho capito, non ho capito, ma in ogni caso, mi credo che è il momento per il tempo, che i ragazzi vengono, e 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 che i ragazzi, che ci vediamo su questo, gli ragazzi, e che tutti insieme assaggiate importanti. E che tutti i ragazzi insieme guardati da noi, ma in questo modo. Abbiamo provato con l'equipo, ma siamo arrivati a qui. Mi credo che i 6 mesi dovremo migliorare più di più. Il processo di Duzovića e Pajića, che sono i nostri giocatori, è il processo di 13-14 giocatori. Quindi i loro dovrebbero migliorare. È il suo tempo che ci si può continuare. E in questo momento, quando i ragazzini del bambino, da i ragazzini, da i ragazzini, da i ragazzini, io spero che ciò che svegliamo in un'altra volta. Paglia di due o tre anni, sicuramente è il futuro. e io spero di continuare in questo periodo. Io spero di essere qui, per ora, qui siamo qui, in Bosnia-Herzegovina, con un grande ruolo di Saraje, e io spero di essere qui, quando ci siamo arrivati, che ci saranno 3 e 4 primi in Bosnia-Herzegovina. Sì, sicuramente non è facile da fare, io sono ambizionato, sono molto nervoso, e mi fanno spettacolo al giocatore, mi fanno e mi fanno andatere, ma non mi chiede a me. Io vorrei a dire che per meole che lasciano vedi a continuare. Questo è sicuramente da fare, ma non è stato un attimo, ma non è stato un attimo, ma non è stato un attimo, ma si stavano raggiunto, ma non è stato un attimo. se si tratta di un lavoro e di trening, che si può fare un buon giocatore, e bisogna di credere. Alla ora, quando siamo arrivati e quando siamo i primi, i quali sono i qualità, e che i potrebbero essere un giocatore e potrebbero essere esistencii a fare un'esistenza. Ma sicuramente, il giocatore del giocatore è molto agresivo, agresiva, più tactica, in quanto riguarda il tempo prima, ma in ogni caso qualitativi sono i treningi, l'infrastura è molto più e io credo che inizia a quella la situazione dell'organizzazione e la premiera Liga, come ho guardato la ultima attenzione della premiera Liga, ho visto davvero progressi sull'interno, quindi credo che quando noi arriviamo, credo che i l'organizzazione dovrebbero rinforzare la premiera Liga, e poi due qualitativi vrhunziati, e poi la Liga è molto interessante, e credo che il pubblico arriverà quando arriva le nostre equipe che hanno la tradizione, e io sono un'optimista. Io non ricordo davvero più felice, io sono entrato alla молодa, cinque migliori, cinque migliori, cinque migliori in Jugoslavia, e anche i vrhunzki giocatori. Ora non si può fare tutto il giorno, per quanto riguarda i vrhunzki giocatori. In ogni caso, non ho capito un momento, perché quando sono arrivato, ho capito la visione, ho avuto la strategia, e credo che tutto ciò che ho avuto planificato, è stato difficile, ovunque siamo in una situazione difficile, e in un certo modo non si potevamo qualifici giocatori, in partecipi i suoi due occhi i quelli che ho venuto a giocatori, ma ora possiamo andare verso, e adesso ci sono i due una chiamata, i suoi i suoni sui, Fajići, e adesso questo Beriš, il nostro corso di essere, il nostro progetto, quindi abbiamo comunque più qualifici, e i sui suoi, sono più conosciuti i conosciuti. Io spero di continuare a continuare a continuare. Io sono sicuramente un optimista. Se guarda tutto questo, come facciamo e continuare a continuare, e spero di continuare a continuare a continuare, siamo sicuramente i nostri candidati per la primavera in Bosnia Herce. Inoltre, abbiamo anche un'equipa, la più grande squadra, che abbiamo già fatto per due o tre anni, se non ci sono ancora due o tre anni, penso che non c'è un'equipa in Bosnia Herce, che potrebbero imparare. Mali Mandžuka è un po' più migliore, ma è molto difficile, quando sono arrivati in primo team, perché non è la qualità in juniori, quando hai delle qualità di 3 o 4 i qualità, mi sono state un po' meno qualità, le tue rispondere con il molti giro. Allo quando passano dall'equipo, dove sono tornare a tempo tanto, spesso sono insieme in tempo, e bisogna trovarare molto più raggiunto. Maia mangiunge è in modo della qualità, un altro tipo di qualità e per cui si sono aveva, ma le mani sono capito del mondo, perché ho capito dal punto di cui ho imparato, perché ho capito che ha un po' più grande potenziale, Ma che in tutti i nostri clubi, a meno di velezza, sono molto fisicamente nespremi. È un'imera 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 un'imera. Bers Rogue, un'imera 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 f Firenze. È un'imera 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 diversa quanto riguarda queste explosive live, e poi presso una cosa sfidoro in Europa e non ha più dominare più potenziale. N proposition dicyclamento con Candy ANDRI, non ho raggiungo più rend mand attraverso lui insieme. e vediamo che ha questo potenziale. Io credo che sia stato un po' di più. È stato un livello in Roma, è stato il migliorno. Cienze sono grandi quando ha fatto un trasfero. Penso che è stato un po' di un momento. È stato un po' di un momento. È stato un po' di 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 un po'. fruiti nel giro ec Maggie e quindi i conveni che proveni molto sicuro in un po' di 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 un po' ah наст do Hel attacking. Quindi sозможно né Abbiamo un'altra parte di giocatori. A questo riguarda Moje Zinović, e anche tutti i nostri giocatori, abbiamo tempo di giocatori. Il tempo di giocatori è il mio mamma, che non è mai stato il tempo di giocatori di 90 minuti, e quando gli stavano in giocatori, non è mai stato il giocatore. Ma abbiamo Cvijanović, Brandà, Pajić, abbiamo anche Beriš, un giocatore di giocatori, che ha un'immagine di stagione. Samađević, Dudić abbiamo un'ambiente. Ma tutti i ragazzi sono i 4 anni, per 4 anni, quando il giocatore non è stato il giocatore, non è stato molto qualitativi, ma il giocatore non è stato un'appartamento. Il giocatore è stato un lavoro che si sono iniziata da fare un'ambiente. E da questi altri giocatori, quando sono i più agli, principalmente non è stato un potenziale, non è più difficile di Giazinović, ma naturalmente bisognava e mi credo che avrei avuto la possibilità e che avrei avuto il Velažo. Trenutno, Mrgan è davvero molto buona. Mi ha avuto problemi molto, non c'è il trening, ho avuto molti conversi con lui. Allora, ho avuto un po' pozitivo, Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.